Intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per la partecipazione alla mia presentazione e ringrazio ovviamente anche la Società del Liuto per avermi invitato, in particolare Matteo Simone e Franco Fois. Il mio intervento sarà relativo a uno studio che ho condotto sull'intavolatura di Liuto, il primo libro di Alessandro Piccinini, pubblicato a Bologna nel 1623. Che poi verrà pubblicato anche nella rivista della Società del Liuto, infatti colgo l'occasione per ringraziare ancora Franco Fois perché mi ha dato una mano enorme a livello redazionale. Mi scuserete se colgo l'occasione per ringraziare anche Massimo Lonardi perché senza il suo aiuto questa ricerca non sarebbe stata possibile. Ecco, il contenuto della mia ricerca prende spunto sostanzialmente da una frase che si ritrova all'interno del libro, che ho riportato e che ora leggo. Tra le seguenti composizioni si troveranno alcune per suonare il liuto e organo, quindi il basso continuo e ancora il chitarrone e organo e a due e tre liuti concertati insieme. Ecco, purtroppo all'interno dell'opera non sono rintracciabili queste parti di basso continuo o basso per organo, citati dall'autore. E' specifico che con basso per organo si intendeva un basso continuo eseguito con l'organo. Ho riportato qui il frontespizio che comunque la comunità degli autisti conosce benissimo perché è un libro molto importante, e anche la prima pagina degli avvertimenti dove è contenuta la dichiarazione che ho citato prima. Questa dichiarazione è contenuta nel capitolo trentatreesimo degli avvertimenti dal titolo Le composizioni in concerto a due e tre liuti. Ecco, questo titolo potrebbe farci pensare che il capitolo si possa riferire solo alle composizioni per liuto, e quindi solo a due brani, perché all'interno del libro ci sono solo due brani di musica d'assieme per liuto. E quindi ci chiediamo se è possibile che l'autore abbia dedicato un intero capitolo per riferirsi solamente a due brani della sua opera. Certamente è possibile, ma una volta che leggiamo interamente il capitolo trentatreesimo ci accorgiamo che oltre alle composizioni due e tre liuti concertati insieme il compositore fa riferimento appunto anche a alcune composizioni per suonare il liuto e organo con il basso continuo, quindi l'organo che esegue il basso continuo e le composizioni per chitarrone e organo. Qui non è stato riportato basso continuo, ma comunque è sottointeso. Ecco, quindi adentrandoci nel capitolo trentatreesimo scopriamo che che l'autore si riferisse a le composizioni certamente per due o tre liuti, ma anche a tutte quelle con liuto e organo e con chitarrone e organo. Quindi il basso continuo può essere applicato a brani scritti per liuto o per chitarrone, in quanto l'autore si riferisce anche a questi brani. E ci chiediamo quale composizioni possono effettivamente essere scelte per essere accompagnate da un continuo, perché l'autore spiega che ce ne saranno alcune. Un esempio di brani per chitarrone e basso continuo lo possiamo trovare in una fonte coeva a Piccinini, che è il terzo libro di tavolatura di chitarrone del D26 di Kapsberger, dove l'autore scrive sopra ad ogni brano intavolato per chitarrone una linea di basso continuo. Questo ci dà una indicazione sulla prassi dell'epoca e ci mostra che, oltre alle forme di danza, anche le toccate, che sono una forma più complessa, potevano essere accompagnate da un basso continuo. Ho riportato qui l'immagine del frontespizzo del libro terzo di Intavolatore di chitarrone, che tra l'altro ha anche alcune tavole alla fine, che sono una realizzazione di continuo dell'epoca. E qui a destra un esempio di una toccata per chitarrone, dove vediamo l'intavolatura di sotto e sopra il basso continuo, nel pentagramma, con anche i numeri. Quindi ci chiediamo come mai, trovando queste affermazioni all'interno del libro di Piccinini, però non compaia nessuna parte di basso continuo. Abbiamo quindi formulato varie ipotesi. La prima si riferisce al fatto che Piccinini potrebbe aver avuto un ripensamento riguardo al progetto di includere queste parti nel suo libro. E ovviamente questa ipotesi è alquanto inverosimile, possibile ma inverosimile, perché considerando il contesto di altro profilo nel quale Piccinini si muoveva, e anche la dedica all'impatto di Spagna nel frontespizio, che accresce ulteriormente il valore del libro, crediamo che questa dimenticanza sarebbe costata veramente cara alla reputazione di Alessandro Piccinini. Quindi ci sentiamo di scartarla. come seconda ipotesi, invece, che comunque riteniamo inverosimile, pure questa, è che l'organista potesse ricavare la parte del continuo direttamente dall'intavolatura. La riteniamo inverosimile perché gli organisti che leggevano in una loro intavolatura completamente differente da quella per Liuto o per Chigliarrone, ci fa scartare questa ipotesi, perché crediamo che un tastierista in grado di compiere estemporaneamente una realizzazione di basso continuo leggendo da un'intavolatura per Liuto sia un'operazione molto complessa. Come terza ipotesi, invece, crediamo che Piccinini possa aver pianificato di pubblicare in seguito lo stesso libro, provvisto di parte di continuo. Ecco, noi sappiamo che pubblicare un libro successivamente aggiungendo le parti di continuo era qualcosa che era in uso, perché se ci riferiamo al quarto libro dei Madrigali di Monteverdi del 1603, vediamo che in un primo momento fu pubblicato con le parti separate senza continuo e successivamente nel 1615 riedito con il continuo. Tuttavia, crediamo che questa ipotesi possa essere scartata perché nel libro di Piccinini troviamo delle chiare dichiarazioni dell'autore, e cioè che nel libro ci saranno, saranno presenti queste parti di continuo. Quindi non è in linea con le dichiarazioni che troviamo nel 33esimo capitolo. La quarta ipotesi, invece, consiste nel supporre l'esistenza di un fascicolo dedicato solo al basso continuo che oggi, purtroppo, è andato perduto. E ci sembra alquanto plausibile. Innanzitutto perché era in uso pubblicare le opere per più strumenti fascicolate, con un apposito fascicolo anche per il basso continuo. E inoltre lo strumentista avrebbe avuto anche un grande vantaggio, per esempio eliminare il problema delle voltate, avendo una parte separata dedicata solo al basso continuo. C'è da dire che i musicisti avrebbero potuto imparare anche la loro parte a memoria, ma questa operazione ci sembra abbastanza lontana rispetto alla pratica di musica d'assieme, dove la realizzazione di un basso continuo in maniera estemporanea e la lettura di questo basso era essenziale. Abbiamo così deciso di ricostruire alcune linee di basso continuo per alcuni brani della musica di Piccinini. E anche se le toccate rappresentano la forma più importante del libro, riteniamo che anche alcune forme di dance debbano essere prese in considerazione. e perciò abbiamo deciso di ricostruire una parte di basso continuo per una toccata e due diverse danze. Ecco, quindi fatte queste premesse, abbiamo scelto questi tre brani tratti dal primo libro di intavolatura, due brani tratti dall'intervoltura di Liuto e uno da quello di Chitarrone e come vedete abbiamo scelto una toccata e due brani contrastanti. Ecco, questa è la mia realizzazione, o meglio, la mia ricostruzione, la mia ricostruzione è improprio, la mia ricostruzione della linea di basso continuo rifacendomi al modello che Capsberger nel suo terzo libro, Intavolatura per Chitarrone, suggerisce. L'unica differenza è che Capsberger pone il continuo sopra, io invece per una questione grafica l'ho posto al di sotto. In ogni caso potete vedere come abbiamo l'intavolatura dello strumento solista e sotto il continuo con i vari numeri. Questa è per la corrente undicesima, questa invece è per la ciaccona, per Chitarrone, sono stati seguiti gli stessi principi, e questa è la toccata diciannovesima. Per quanto riguarda la toccata, bisogna fare alcune precisazioni, perché abbiamo sfoltito il materiale, quindi il profilo del basso rispetto a quello dello strumento solista, perché è consono con quello che avveniva anche nelle fonti dell'epoca, sfoltire il basso per dare una libertà maggiore al solista, tranni in un punto particolare che è questo, dove il movimento del basso, essendo così complesso, abbiamo dovuto riportare l'intero profilo melodico del basso. Quindi farei alcune precisazioni, alcune considerazioni riguardo alle trascrizioni che abbiamo proposto, e innanzitutto il basso continuo ricostruito viene proposto in un registro adatto a qualsiasi strumento, poi lo strumentista, l'esecutore, insomma, sceglierà in quale registro sarà più opportuno eseguirlo. Come dicevo prima, la linea del basso continuo è stata effettuata seguendo le fonti dell'epoca, come ad esempio il primo libro delle canzoni di Prescobaldi, dove la parte di continuo si presenta come la parte dello strumento monodico che esegue la linea più grave, ma con molte diminuzioni in meno, per consentire appunto questa maggiore libertà allo strumento principale. Per quanto riguarda la toccata, quindi abbiamo ricostruito il basso, ovviamente riferendoci al libro, terzo di intravolatura di Kapsberger, ma anche alla toccata per spinettina sola, o verliuto, tratta dal primo libro delle canzoni di Prescobaldi, che qui riporto per dimostrare come, in questo caso, la mano sinistra dell'esecutore della spinetta abbia un profilo melodico molto più complesso del basso continuo che invece è statico. E questo per dimostrare come il basso continuo dovesse sostenere sicuramente, armonicamente, lo strumento principale, senza però privargli questa libertà, soprattutto appunto nel genere della toccata. Ecco, facciamo alcune considerazioni sul basso continuo. e non abbiamo proposto una realizzazione scritta del continuo, perché fondamentalmente non rientrava nella prassi dell'epoca, però dobbiamo comunque chiarire che ci sono fonti storiche, come ad esempio il primo libro di Villanelle, di Kapsberger, e Musical Banket, di Robert Dolan, entrambi pubblicati nel 1610, il primo riferito al chitarrone, il secondo a Liuto, che effettivamente riportano una realizzazione del continuo sotto forma di intavolatura. E anche Agazzari, nel suo trattato, a scopo didattico, fornisce degli esempi scritti di realizzazione. Inoltre, Agazzari si sofferma anche sul fatto che questi strumenti che lui classifica di ornamento doveva una vera scienza di contraponto, cioè conoscere il contrapunto, per comporre nuove parti. Quindi, vediamo che era una pratica che poteva, era una prassi anche poterlo scrivere. Comunque noi abbiamo deciso di non realizzare il continuo. Un'ultima questione riguarda l'ipotesi degli organici strumentali, perché volendo rispettare quello che l'autore dice, il basso continuo andrebbe suonato con un organo. Chiaramente, questo organo, dovendo accompagnare uno strumento apistico come la tiorba o il liuto, sarebbe opportuno che fosse piccolo o comunque con un registro da suono molto delicato per non sovrastarlo. Ci possiamo interrogare su come mai tra tutti gli strumenti possibili per realizzare il continuo Piccinino aveva proprio scelto l'organo. Innanzitutto, possiamo dire che stando a quello che afferma Gazzari, la pratica del basso continuo nasce e si sviluppa nell'ambito organistico. Quindi la scelta di questo strumento è una prassi documentata e storicamente consolidata. E inoltre, non dobbiamo dimenticare che l'organo ha due caratteristiche davvero importanti che potrebbero aver motivato questa scelta. innanzitutto il timbro dell'organo ci unisce perfettamente a quello di un strumento come il liuto o la tiorba e in secondo luogo ricordiamo che l'organo ha la possibilità di tenere i suoni molto a lungo creando proprio un tappeto sonoro e questo agevola lo strumento solista nell'eseguire la sua parte. Ecco, sebbene l'analisi appena fatta giustifichi pienamente l'utilizzo dell'organo per il basso continuo non esclude però l'utilizzo di altri organici. Facciamo un esempio. Un ruolo particolarmente importante nella pratica dell'accompagnamento è stato assolto dagli strumenti apistico e infatti nelle prime opere di stile rappresentativo hanno giocato davvero un ruolo fondamentale. Ho riportato qui l'Orfeo di Monteverdi dove vediamo nella pagina degli strumenti come ci fosse la richiesta di due chitarroni quindi questo per dimostrare come fossero davvero strumenti essenziali e che abbiano partecipato attivamente a questa pratica dell'accompagnamento fino a le prime opere di stile rappresentativo. Consideriamo i punti di forza degli strumenti apistico che sono i seguenti. innanzitutto sono estremamente maneggevoli e sono in grado di realizzare armonie passaggi e contrapunti e in secondo luogo hanno un timbro molto interessante e sicuramente la possibilità di suonare piano e forte. Perciò Piccinini seppur prescriva l'organo per eseguire il continuo riteniamo possibile che anche gli strumenti della famiglia dell'iuto o comunque strumenti affini possano essere impiegati per l'accompagnamento. Faccio una breve conclusione riassumendo quello che è stato fatto in questo studio quindi innanzitutto è stata ipotizzata una perdita di un fascicolo separato che avrebbe dovuto contenere la parte del basso continuo e attraverso l'analisi del libro terzo di intervoltura di Chitarrone di Kapsberger ci ha permesso di considerare che tutti i generi presenti all'interno del primo libro di intervoltura di Piccinini possono essere adatti per essere accompagnati con un basso continuo. Basandoci anche sulle fonti dell'epoca è possibile quindi ricostruire le parti che ci sembrano quindi perdute del continuo applicabili nel libro di Piccinini e nonostante Piccinini suggeriscono accompagnamento all'organo quindi è possibile anche realizzare il continuo con qualsiasi strumento della famiglia dell'iuto quindi questa diventa solo una scelta estetica. Ecco in questa maniera riteniamo sia possibile recuperare un repertorio di musica di assieme e comunque rispettando la volontà espressa nell'autore nella sua prefazione io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione Grazie mille direi che possiamo comparire tutti ci sono domande affascinanti nel senso che sono quelle cose che non si sa che sulla parte di basso continuo che lasciano sempre questa possibilità ma che in realtà non bisogna ricostruire chissà come suonavano nessuno lo sa troppo un disco insomma è giusto anche provare c'è una mano alzata posso fare una domanda ah sì 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 prego innanzitutto grazie per questa occasione spero che ce ne siano moltissime altre oltre a quelle già segnalate e anche per i due interventi molto interessanti una piccola curiosità che riguarda Piccinini questa pubblicazione il primo libro è stata estremamente problematica cioè Piccinini ci ha provato per più di vent'anni a pubblicare il libro alla fine ci è riuscito però sappiamo che non forse non direttamente sotto la sua supervisione ma deve essere esistita un'altra edizione su Rame perché è stato ritrovato forse Ettore lo sa un un retaro di un dipinto su Rame dove è riportato un brano di Piccinini ed è inciso proprio sul Rame intanto ho il gatto dietro che mi sta distruggendo la casa quindi non preoccupatevi quindi è probabile anche che un giorno ci sia la possibilità di trovare questo fascicolo scomparso che mi sembra l'ipotesi senz'altro più interessante magari attraverso anche altre edizioni la cosa che è un po' frustrante è che nelle concordanze anche manoscritte non ci siano queste parti di continuo che mi sembra evidente che siano esistite perché Piccinini l'ha scritto quindi non ci sono dubbi no? però speriamo ecco insomma che prima o poi vengano alla luce e continuiamo continuiamo le ricerche che è sempre la cosa più divertente più bella da fare grazie mille grazie a lei non sapevo di questa curiosità quindi la volete volete vedere questa ma la possiamo condividere posso condividerlo un attimo questa pagina? mi parevi piacere vedere senza problema vediamo un po' si vede male si vede male però evidentemente è una semplificazione dell'aria terza di Piccinini non ricordo la pagina penso che sia intorno alla 49 insomma dell'originale del 23 e questo è chiaramente un lavoro su rame brano vi dico semplificato quindi non sappiamo se sia stato Piccinini a curare questa cosa se sia entrata in una edizione pirata se sia stata poi inserita in un'antologia chi lo sa chi lo sa è rimasta solo questa cosa però tutti questi come dire punti di domanda che ci arrivano dalla storia ci aprono ancora di più nuove prospettive e ci costringono a continuare a cercare però a chi interessa basta che me lo diciate vi mando la riproduzione Ettore sicuramente a me interesserebbe infatti grazie sì 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 se mi mandi o chiedo a Matteo insomma la tua mail se è possibile se qualcuno è interessato ecco io posso rilanciare diciamo una richiesta poi la mandano a me e poi la giro quindi se qualcuno è interessato raccolgo le richieste ecco grazie grazie per il servizio il postale va bene allora c'è altra domanda vedo volevo soltanto posso un attimo Matteo dire che l'argomento trattato da Ettore stasera può essere approfondito rivisto col prossimo numero della rivista il 21 perché adesso è appena uscito il 20 e nel numero 21 sarà invece compreso anche quest'articolo interessantissimo ottimo io ringrazio ancora Franco per l'aiuto che mi ha dato nella fase redazionale se non ci fosse stato lui sarei stato proprio perso quindi grazie grazie a te grazie a te per l'argomento per l'argomento